Giorgio Meloni speaking Il premierato forte Cari amici in queste ore sento ancora dei forti perplessità sul premierato forte. Il premierato forte serve a dare più stabilità e siete voi a decidere alla fine del mio mandato anche io sarò tra queste foto. Questi personaggi prego di inquadrarli questi sono tutti i personaggi che sono legati in qualche modo al premierato forte e non vi spiegherò perché questi tutti quanti alla fine e dopo ci sarò pure io se ci fosse stato il premierato ma chi avete messo? ma chi avete messo? L'allobri! Sto appaduto! L'allobri! Ecco ecco Giorgio che c'è? Ma chi hai fatto mettere i quadri dietro? Ho fatto quello che mi ha detto te dice metti quelli come me, metti quelli come me e ho messo quelli come te ma io ho tante grandi statisti l'allobri, forse non capisci mai niente ma tra te Salvini non so che devo fare ma come faccio il fanno governo? ma Giorgio ma che te sei offesa? ma perché non so quello di bene? non so quello di bene ma io non lo so Giorgio Meloni speaking La 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 La